Per iniziare questa lezione ho preferito creare un modello tutto nuovo con il nostro Rise Editor, ricordate sicuramente. Avendo lavorato all'inizio della mia carriera alcuni anni per una software house che produceva applicazioni per comuni, mi sono veramente ritrovato a gestire questa situazione. Avete davanti soltanto i primi campi, perché in realtà ce ne sono decine, di quella che potrebbe essere la struttura dell'insieme entità anagrafe che descrive un cittadino. Mettiamoci anche il sesso maschio-femmina, M barra F, come preferite. Una delle cose che sicuramente interessa un comune è ricostruire l'entità famiglia, cioè sapere chi è il capo famiglia e quali sono le moglie, i figli e altri familiari che compongono appunto il nucleo familiare. Una possibilità è quella di introdurre un insieme entità chiamato nuclei, dove rappresenteremo con ogni riga, e un corrispondente codice di anagrafe nel modello relazionale, un membro di una certa famiglia. Il campo capo famiglia è un boolean, un 1-0, un vero-falso, ed è settato a 1 o a vero solo per il capo di quel gruppo di persone che fanno parte dello stesso nucleo familiare. Non rimane che completare il quadro, stabilendo un'associazione, 1-molti. L'aver lasciato il pallino, lo 0, sta semplicemente, ed ovviamente, a significare che una persona potrebbe anche non essere single, quindi non fare parte di nessun nucleo familiare, e quindi non comparire nella sezione nuclei. Oppure avremmo anche potuto scegliere di mettere l'obbligatorietà, e quindi anche qui il trattino dell'1, immaginando che se una persona è da sola, forma nucleo familiare con se stesso, e quindi sarà automaticamente anche il capo famiglia di se stesso, diciamo. Sono scelte implementative più o meno equivalenti. Nel modello relazionale, definendo poi le tabelle e implementandole, ovviamente andremo poi a mettere il KS anagrafe nella tabella che lì starebbe a rappresentare l'insieme entità nuclei. Fin qui, nulla di strano, è una strada perfettamente percorribile. Ma ce n'è un'altra, che alcuni trovano più elegante, anche più chiara, dopo non so i risvolti a livello implementativo come prestazioni. Però vale la pena vederla. Si tratta delle associazioni ricorsive. Un'associazione è detta ricorsiva quando un'insieme entità fa riferimento a se stesso. Cioè, letteralmente stabilisce un'associazione uno-molti, o molti-molti, con se stesso. Ed ecco come si trasforma il modello concettuale. Sparisce il secondo insieme entità. Il campo capo-famiglia viene portato direttamente nel record dell'anagrafe. Sempre un booleano, non cambia nulla da questo punto di vista rispetto a prima. Quello che cambia è come andiamo a stabilire la nostra associazione. Parto da anagrafe e ritorno su anagrafe. Quindi è una 1 a molti, anzi una 1 a 0 molti, come prima, di anagrafe con se stessa. In fondo, se ci pensate, è vero. Abbiamo un elemento di questo insieme entità, il capo-famiglia, che è in associazione con 0 o m elementi della stessa insieme entità. E' interessante, adesso lo facciamo perché qui serve, puoi capire, per stampare ad esempio i nuclei familiari, vedere proprio l'implementazione con un database fisico reale. Ho fatto partire allora MySQL, ma se voi preferite usate, lo sapete, senza problemi, anche SQL Server. Sto per creare un nuovo database che sto chiamando Servizi Comunali. Ho confermato la creazione del database, poi ho richiesto la creazione di una sua prima tabella, che chiamerò chiaramente anagrafe. L'id e i campi che abbiamo visto prima, quindi il cognome, un var char di 50, il nome, ancora un var char di 50, il sesso, un char, perché so che deve essere per forza lungo 1, non più di 1, è solo 1, m per maschio, f per femmina. Il capo-famiglia, non possiamo indicarlo almeno con MySQL, almeno non in questa versione, come un bool, perché non tutti i database implementano questo tipo di dato, però aggiriamo facilmente con il solito char di un carattere, s, si, n, no. E il campo più importante di tutti, il codice anagrafe, il ks anagrafe. Quindi un record della tabella anagrafe fa riferimento potenzialmente a m altri record della stessa tabella. Ma cosa rappresenta questo ks anagrafe per un record? Il codice, se c'è, altrimenti sarà null, del suo capo-famiglia. Quindi, moglie, figli e quant'altri abitano in quel nucleo familiare, avranno tutti lo stesso codice di capo-famiglia, che potrebbe essere di solito il papà. Ho confermato la creazione della tabella, ho dato il nome anagrafe alla tabella. Tutto carino, tutto elegante, ma starete forse pensando, Sì, però, di là, con due tabelle, riuscivo a immaginare una select from una e l'altra where, uguagliavo i codici e avevo l'elenco dei familiari. Ma qui com'è che faccio a scrivere le comande su quelle? Non ho due tabelle. Come faccio a fare la join con se stessa? In corrispondenza di un'associazione ricorsiva, esiste uno speciale tipo di join, che si chiama self-join, cioè join con se stesso. Per poterla provare insieme, però prima dobbiamo registrare qualche cittadino. Andiamo in table data. Cognome. Per capirci qualcosa colpo d'occhio, chiamiamo questo capofamiglia 1. Nome, beh, non ci interessa, andiamo solo con il cognome, dai, è sufficiente. È capofamiglia, sì, quindi mettiamo S. KS anagrafe, qui dovrei metterci il codice del suo capofamiglia, ma essendo lui stesso un capofamiglia, lascio null, cioè non ne ha. Aggiungiamo un secondo capofamiglia. L'ordine è del tutto ininfluente. Avrei anche potuto inserire prima moglie, figli, non è quello il punto. Anche qua lasciamo null, poi inseriamo la moglie, scriviamo M per moglie, dopo magari mettiamo anche il sesso, va, se no diventa un po' ridicolo. La moglie del capofamiglia 1, femmina, qua abbiamo maschio, qua facciamo finta invece che sia, a volte capita, capofamiglia, la mamma. Quindi è femmina e quindi avrà un marito, in realtà, come il suo membro del nucleo familiare. Poi mettiamo anche, quindi questo punto è mettere il marito, sono fregato perché M, M è moglie e marito. Mettiamolo ora, ma, no, è M per moglie, adesso mi casino per bene. Questo invece è il marito del capofamiglia 2, che abbiamo detto è femmina, quindi è un marito. Questo è un maschio. Aggiungiamo, qua no, non è capofamiglia, qua no, non è capofamiglia, qualche figlio, quindi figlio 1, che fa riferimento al capofamiglia 1, maschio, non è capofamiglia, ok, siamo quasi pronti per mettere i codici, dunque, anzi, facciamolo perso, no, poi ci perdiamo. Abbiamo detto, questa è la moglie del capofamiglia 1, il codice del capofamiglia 1 è 1, il suo ID, quindi lo associamo con la prima riga di questa bella. Questo invece è il marito del capofamiglia 2, che è una femmina, ha codice 2, quindi qua ci mettiamo 2. Questo è il figlio, che fa riferimento al capofamiglia 1, quindi ha 1 come codice. mettiamo un altro figlio, secondo figlio, che fa riferimento al capofamiglia 1, una ragazza, non è capofamiglia, e fa capo a 1 come codice. E infine, soltanto un figlio o una figlia, per il capofamiglia 2, che era una donna, questa mettiamo una femmina, non è capofamiglia, e il suo capofamiglia è colui o colei, colei in questo caso, che ha come codice 2. Va bene. Adesso ci divertiamo un po' con qualche interrogazione. Cominciamo con qualcosa di semplice. Non so, l'elenco dei capofamiglia. Dovrò giocare sul null del campo KS anagrafe, quindi select asterisco from anagrafe where KS anagrafe is null. Si comanda così. Dovremo ottenere, se non ho commesso errori, le prime due righe. Mandiamo un'esecuzione, ed eccole qui. Questa era facile. decisamente più interessante rispondere invece alla domanda quali sono i membri del nucleo familiare che ha per capofamiglia la persona con cognome CF1, capofamiglia 1. E questo è il risultato che, vedete ora, che vorremmo ottenere. La moglie del capofamiglia 1 e i figli. si potrebbe pensare in prima approssimazione, come primo tentativo, che la select che dà la risposta sia quella che potete vedere qua sotto. Selezionare il cognome da anagrafe due volte, perché in fondo si vuole legare l'id anagrafe che è di questa tabella con il campo KS anagrafe che di nuovo è della tabella, cioè meglio, è della tabella che corrisponde a questa insieme entità con il criterio che è quello solito e che ho appena enunciato, cioè id anagrafe uguale KS anagrafe e imponendo come condizione aggiuntiva che il tutto deve essere fatto selezionando le righe per il cognome che corrisponde al capofamiglia CF1. Vediamo cosa succede ad eseguire. Sposto un pochetto per farvi vedere il messaggio. Eccolo qui. not unique table alias anagrafe. Che cosa sta succedendo? Che cosa ci sta dicendo? Semplicemente che si sta confondendo. Non sa esattamente se questo di anagrafe lo deve considerare lato prima versione della tabella o seconda perché questo campo sia ovviamente in questa anagrafe che poi ancora questa. Non è in grado di fare gli abbinamenti delle righe perché c'è ambiguità. Dobbiamo risolvere questa ambiguità utilizzando i cosiddetti alias. Un alias è un nome secondo nome che attribuiamo a una tabella o un terzo momentaneamente giusto per l'esecuzione all'interno di un acquiri. E si fa così. Dico il cognome from anagrafe rinominato momentaneamente come non so tab 1 nome completamente inventato ancora con la stessa tabella ma rinominato come tabella 2 where e adesso possiamo utilizzare tab 1 e tab 2 dico beh considerando una tabella a sinistra una prima tabella come lato 1 prendiamoli di anagrafe mentre per il ks anagrafe è come se lo stessi prendendo dalla seconda tabella lato molti tab 2 and questo cognome è quello che fa capo al lato 1 perché è il cognome del capo famiglia e quindi tab 1 e riesoghiamo c'è un errore e si preso dalla foga anche questo devo dire dove lo prendiamo è corrispondente al cf1 no anzi no questo qui è il cognome del risultato quindi è tab 2 cioè i nomi dei componenti tab 2 cognome from anna ok adesso dovrebbe andare bene andiamo ad eseguire ecco qui come vi avevo anticipato la moglie del capo famiglia e i due figli trucco interessante vero? l'appetito viene mangiando ora vogliamo anche sapere chi è sposato con chi quindi non solo i faccianti parte del stesso gruppo ma proprio una cosa un po' più specifica è ancora un'associazione di anagrafe con se stessa per cui un maschio è collegato per il momento ancora solo con una femmina tra un po' probabilmente cadrà anche questo tabù se dovessero prima o poi consentire ai matrimoni tra persone di sesso diverso ma per il momento abbiamo maschio femmina o viceversa per gestire questa informazione quindi stabiliamo o una 1 a 0 1 se vogliamo ammettere soltanto la possibilità dell'ultimo coniuge e non tutti quelli che potrebbero susseguirsi a seguito di divorzi oppure una 1 tu 0 molti lo 0 è sempre presente perché ovviamente ci sono anche i celibi e le nubili comunque al di là di bloccare la cardinalità cioè la numerosità del lato molti o uno o a tanti a seconda che si voglia memorizzare soltanto un solo coniuge o molti di fatto poi si comporta allo stesso modo adesso qui si stanno un po' sovrapponendo nella tabella fisica andremo ad aggiungere un altro codice di persona che non è il codice del capofamiglia quello c'è già ma il codice del coniuge se in presenza di celibe o di nubile ovviamente metteremo null lasciremo il campo vuoto sono tornato sul frontend SQL YOG vado a comandare col pulsante destro l'operazione di alter table modifica della struttura perché devo aggiungere il ks coniuge adesso sto trascurando il fatto che forse ottimizzando l'uso dei codici si potevano ottenere le stesse informazioni come nocambri non fa niente adesso noi stiamo preoccupandoci di come implementare e sfruttare le associazioni ricorsive ok confermo la modifica la struttura facendo clic sul bottone alter table poi devo andare a caricare un pochettino in modo coerente un po' di dati altrimenti diventa una sperimentazione non significativa dunque com'è la situazione prima di fare promiscuità inenarrabili dunque questo è il capo famiglia 1 e questa è sua moglie quindi il codice 1 di questo signor marito lo andiamo a inserire qua come codice coniuge e viceversa quindi il codice coniuge della moglie del capo famiglia 1 è 1 e il codice coniuge del capo famiglia 1 è 3 e questo è sistemato questa è la moglie del capo famiglia 2 che ha codice 2 quindi è 2 e no scusi il marito sto facendo un po' di confusione quindi questa è la moglie di questo marito e viceversa andiamo nel capo famiglia 2 che è questo e ci mettiamo 4 che è sposato con 4 applichiamo la stessa tecnica di prima con un primo tentativo che dovremo raffinare leggermente selezioniamo da tabella 1 il cognome che potrebbe essere il marito o la moglie con sempre la stessa tabella di nuovo il marito o la moglie da anagrafe come tab 1 ancora anagrafe come tab 2 e questa volta impongo l'uguaglianza tra il codice di anagrafe con il codice del codice del coniuge funziona solo che otteniamo più del dovuto perché vengono replicate le coppie una volta qua andrà a considerare non so il capo famiglia 1 e di qua lo andrà a incrociare con il marito o la moglie adesso non ricordo di quel capo famiglia 1 ma prima o poi facendo passare tutte le righe della tabella considerandola come tabella 1 arriverà anche all'altro coniuge e invertirà le coppie e me le trovo raddoppiate vedete ho la moglie del capo famiglia 1 con il capo famiglia 1 poi il marito del capo famiglia 2 con il capo famiglia 2 e qui avremmo già finito e invece ci ritroviamo raddoppiate le coppie il capo famiglia 1 con la moglie il capo famiglia 2 con il marito ci vuole un trucchetto per bloccare la composizione delle coppie di troppo eccolo qui il risultato e il trucco non so se sia l'unico però è efficace io ho dovuto pensare una condizione che è vera quando si presenta una delle due versioni della coppia e non l'altra e non esclude non esclude però poi tutto io quando metto insieme la moglie del capo famiglia 1 e il capo famiglia 1 stesso che cosa posso dire? beh che hanno certamente come persone degli ID ID anagrafe diversi certamente non uguali uno è maggiore dell'altro non so quale ma non mi interessa e so che se impongo la condizione delle due versioni a coppie invertite prima moglie capo famiglia 1 e poi capo famiglia 1 e poi il viceversa soltanto in una delle due coppie varrà questa condizione perché ripeto questo potrebbe essere la moglie e la capo famiglia 1 col suo codice sarà più grande o più piccolo non lo so non mi interessa so che solo per una delle due coppie invertite sarà valida questa relazione perché o che il codice di questo è più grande del codice di questo o viceversa ma non tutte e due quindi questa condizione mi esclude una delle due combinazioni e avrò nel risultato presente una volta sola la coppia marito moglie e con questo chiudiamo la lezione la prossima vi lascio questo quesito sarà possibile immaginarsi situazioni in cui ha un senso pensare a un'associazione ricorsiva molti a molti grazie 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 a tutti